Ancora azioni di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel Gelese i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Gela hanno effettuato un servizio straordinario nel corso del quale sono state arrestate quattro persone, un giovane gelese e tre suoi familiari. Dopo una prolungata osservazione i carabinieri si sono recati nell'abitazione da perquisire, il giovane però è subito fuggito per cercare di disfarsi della sostanza stupefacente. I militari sono stati ostacolati nel frattempo dalla madre, la sorella e la compagna del Gelese che si sono scagliate contro di loro con calci e pugni. Per riportare alla calma la situazione è stato necessario l'arrivo di altre pattuglie. All'interno dell'abitazione dopo la perquisizione sono stati rinvenuti un panetto di hashish, strumenti per la pesatura, il taglio e il confezionamento. Il tutto repertato e sottoposto a sequestro. Il giovane è stato arrestato per detenzione e fini di spazio di sostanze stupefacenti e resistenza, mentre le tre donne sono state arrestate per violenza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate nei confronti dei militari. Tutti e quattro sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, mentre i tre militari aggrediti hanno riportato contusioni di escoriazioni multiple, pertanto sono stati curati presso il locale ospedale.